Siamo venuti della Francia Siamo venuti della Francia Siamo venuti della Francia Grazie 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 Ecologista. Lo stesso regista del Triomphe, da cui poi è stato tratto il remake italiano, che si chiama Grazie Ragazzi, che è stato il film di Riccardo Milani, che ha vinto la prima edizione di Borghi sul set di Cinecircolo Romano. E' lui, col colpo.